E restiamo a Bisceglie dove c'è il consueto appuntamento con gli eventi del weekend del Borgo delle Meraviglie. Una occasione per vivere alcune ore nell'incantevole paesaggio del Centro Storico in compagnia delle botteghe, degli artigiani e tanti spettacoli. Il servizio di Francesco Rossi. Torna la musica nel Borgo delle Meraviglie all'interno del Centro Storico di Bisceglie con serate d'ingresso gratuito per tutti i gusti e per tutte le età. Sabato 31 luglio alle 21 in Piazza Duomo toccherà al duo Duio Paravis, formato dal chitarrista e cantante Domenico Mezzina e dal clarinettista Carlo Vitate. Un'esperienza musicale che nasce dall'amicizia che lega i due maestri da molti anni e dalla passione in comune per la canzone partenopea. Nel Borgo delle Meraviglie proporranno un programma che abbraccia la canzone napoletana dal 1500 al 1900 con i brani che hanno fatto la storia del genere. Si chiude domenica 1 agosto con un viaggio tra le note, fantasia musicale di Alba Rock Band, in programma alle 21 in Piazza Tressanti. Un tuffo nel passato tra i migliori brani italiani di Bertè, Giorgia, Mango, Tozzi e Dalla e indimenticabili successi internazionali da Gloria Gaynor ai Queen. In Piazza Tressanti, dalle 19 di domenica, sarà inoltre allestito un punto degustazione a cura di asso locali per valorizzare i sapori e i prodotti della nostra terra. Il Borgo delle Meraviglie è un'iniziativa organizzata dal GAL Ponte Lama, Conf Agricoltura, Conf Commercio, Associazione Borgo Antico, con il sostegno dell'amministrazione comunale e della Camera di Commercio di Bari.